Grazie a tutti. Come sempre andremo ad affrontare una tematica di stringente attualità e oggi parliamo di tutela dell'ambiente che può essere declinata ovviamente in tanti modi, in questo caso parliamo di trasporti per la scuola. Bambini che scelgono di andare a scuola in modalità alternative rispetto all'utilizzo dell'auto, può essere a piedi oppure in bicicletta perché ci sono comuni che stanno sperimentando questo servizio. Allora senza dirvi troppo in apertura vado a presentarvi l'ospite che mi aiuterà davvero nell'impresa di raccontarvi questa bella esperienza. Sto parlando di Davide Miceli che è presidente dell'associazione Grinto Circolo Lega Ambiente. Grazie per essere qui con me. Grazie a voi, buonasera a tutti, buongiorno. Allora, Bike to School. Parliamo nello specifico di questa iniziativa molto bella, interessante perché è davvero come un modo nuovo per raggiungere la scuola, cioè in bici, utilizzando delle carovane di bimbi in bicicletta che vengono guidati ovviamente da adulti e che imparano così che si può andare a scuola avendo però un impatto meno gravoso sull'ambiente. Per arrivare a raccontare questo progetto però raccontiamo che cos'è Grinto e che cosa fa sul territorio. Grinto è un'associazione nata nel 2015 presso il campus Einaudi dell'Università di Torino che aveva come obiettivo quello di inserire la raccolta differenziata al campus che pur essendo nuovo non c'era. Quindi da allora un gruppo di giovani studenti si sono ritrovati grazie a una serie di eventi, di riunioni hanno portato avanti l'associazione che nel 2019 è diventata APS, quindi associazione di promozione sociale, dal 2020 è un circolo di lega ambiente. L'obiettivo di Grinto è quello di portare delle azioni sulla comunità, sul territorio, torinese ma anche nei territori adiacenti, che facciano bene all'ambiente, quindi progetti di salvaguardia dell'ambiente che aiutino la comunità a rendere il nostro panorama più sostenibile. Ecco, tra questi c'è il Bike to School. In che cosa consiste? Quali comuni che coinvolge? Ha usato la parola giusta, una carovana di bambini. Il Bike to School è proprio questo. L'obiettivo che ci siamo posti, grazie soprattutto alla passione che hanno alcuni nostri soci per la mobilità dolce, quindi ciclabile, è stata quella di sensibilizzare le famiglie, le istituzioni a far vedere che ci sono modi alternativi di andare a scuola e di spostarsi, non solo a scuola ma anche a lavoro. Però la cosa straordinaria per noi è quella di vedere ogni giorno decine di bambini che si spostano in bicicletta per andare a scuola guidati da dei capitani, che sono le guide adulti che li accompagnano, partendo da un punto di ritrovo vanno fino a scuola e lì vengono poi scortati nelle loro aule. Questo è l'obiettivo di far vedere che la macchina non è l'unico mezzo esistente per accompagnare le persone da un luogo all'altro, ma che la bicicletta, oggi come oggi, è sempre più un mezzo che noi spingiamo di adottare, di utilizzare. Importante e anche particolare il fatto che questo tipo di servizio funzioni proprio come una linea di trasporto pubblico. Ci sono delle stazioni, il servizio viene garantito con qualsiasi condizione di meteo. Anche questo è importante, cioè far capire ai bambini che ci si può spostare anche con la pioggia, anche con un po' di vento, che non sono sicuramente queste le condizioni che impediscono di utilizzare questi servizi. Allora, lo racconteremo ancora più nello specifico, però vorrei a questo punto della nostra chiacchierata proporre ai nostri telespettatori un servizio che abbiamo realizzato e che parla proprio di mobilità alternativa e di strade scolastiche. Vediamo. Andare a scuola in sicurezza e in salute, respirando aria pulita e riscoprendo la propria città a misura di studente. È un obiettivo realizzabile grazie alla mobilità attiva, a piedi o in bicicletta, e alle strade scolastiche che puntano a liberare dal traffico a motore le aree davanti agli ingressi degli istituti. Ne va della salute dell'ambiente, ma anche di quella dei bambini. Non è una novità, infatti, che l'esposizione continua a inquinanti strettamente legati al traffico veicolare, soprattutto dei motori diesel come il biossido di azoto, rechino gravi danni alla salute dei più piccoli. Asma, malattie polmonarie cardiache, danni alle cellule cerebrali e alla capacità di apprendimento. Per questo motivo l'Organizzazione Mondiale della Sanità di recente ha abbassato i limiti di tolleranza da 40 a 10 microgrammi per metro cubo. Tetti regolarmente, ampiamente superati nelle strade delle scuole delle nostre città, come ha registrato l'ultima campagna NO2, no grazie, di cittadini per l'aria. L'indagine ha rilevato valori di biossido di azoto NO2, appunto, dentro le aule di 50 scuole elementari, a Varsavia, Berlino, Londra, Parigi, Madrid e Sofia, intorno ai 40 microgrammi per metro cubo. A Londra è stato dimostrato che le strade scolastiche hanno ridotto i livelli di biossido di azoto fino al 23%. In Europa l'attenzione verso la realizzazione di veri e propri circuiti stradali scolastici è presente da tempo. Londra e Parigi solo negli ultimi anni ne hanno realizzate rispettivamente 350 e 150. Anche Bruxelles, Madrid, Barcellona, Lione seguono questo esempio. In Italia le sperimentazioni avviate in alcune città parlano di una prima fase con numeri molto inferiori. 35 a Milano e solo 17 a Roma. Spesso lasciate l'iniziativa volontaria di genitori con scarse efficacia, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Si potrebbe fare molto di più, ma non mancano gli esempi virtuosi da nord a sud. Fra le realtà promosse dal basso, entusiasmo sta suscitando quella promossa dal circolo di grugliasco Grinto. Tutti i venerdì accompagnano i bambini in due scuole elementari con una cargo bike che porta i loro zaini. Il tragitto a piedi viene così trasformato in un momento educativo oltre che divertente. Grazie ad un crowdfunding, il circolo ha raccolto oltre 5.000 euro per acquistare una bici cargo e gli accessori per gestire il servizio. Allora, vuole così commentare quello che abbiamo sentito all'interno del servizio, poi continuiamo a parlare di Bike to School. Sì, sì, è corretto. Noi siamo partiti grazie a una campagna di crowdfunding che ci ha permesso di raccogliere sui 6.300 euro grazie a 104 sostenitori che ci hanno permesso di acquistare una cargo bike che si chiama Irena, con cui noi abbiamo accompagnato per un mese e mezzo di sperimentazione i bambini a scuola dei comuni di Grugliasco e Collegno. Grazie a un nuovo finanziamento giunto dal patto territoriale zona ovest abbiamo potuto allargare il progetto ad altri 5 comuni. Vediamo se riesco a ricordarmeli tutti. Sono Buttigliera, Venaria, Pianezza, Rivoli e il quinto Alpignano, bravissima, grazie. Chiedo scusa ma me ne dimentico sempre uno. Grazie appunto a un finanziamento decisamente più sostanzioso anche abbiamo potuto allargare il progetto ed oggi abbiamo qualcosa come una settantina all'incirca di bambini che nei 7 comuni viaggiano una o tre volte a settimana dipende da comune a comune nel tragitto casa-scuola in bicicletta. E' importante il fatto che tanto dipenda dal coinvolgimento delle famiglie, dalla coscienza anche di ciascuno di noi perché ovviamente è un impegno doversi alzare, preparare la bicicletta, andare al punto di ritrovo. Forse questo un pochino ha frenato in questi anni il coinvolgimento delle famiglie, avete notato appunto dei problemi di questo genere nel avviare questo servizio, qual è il vostro polso della situazione? Sì, sì certo, nel video che avete mostrato avete detto alcuni dei dati riguardo all'inquinamento che genera lo spostamento con mezzi come l'automobile quindi l'importanza di accompagnare oggi i bambini a scuola con un metodo alternativo sostenibile ovviamente ne va del loro futuro del nostro ma poi anche del loro. Certo, ovviamente noi siamo un paese abituato ad utilizzare la macchina, Torino credo sia la seconda città in Italia dopo Cattania con la maggior parte di auto immatricolate in Italia, quindi immaginate che non è semplicissimo come discorso. Scardinare certe abitudini. Esatto, la città della Fiat fino a non tantissimo tempo fa, chiaro che è difficile, però la strada che stiamo percorrendo è quella corretta. La difficoltà che abbiamo è soprattutto, questo è un appello che faccio, mi permetterete, agli spettatori, su due comuni che sono Venaria e Alpignano con cui stiamo un po' faticando a iniziare, perché da una parte abbiamo problemi di trovare i capitani che sono appunto gli accompagnatori che si prendono la responsabilità e anche il divertimento, lasciatemelo dire, di accompagnare i bimbi a scuola dall'altra parte invece bambini, quindi genitori disposti a lasciare i bambini a fare questo percorso insieme a noi. Noi comunque il tragitto lo si decide insieme, prestabilito insieme a Grinto. Tra l'altro il progetto prevede delle premialità, quindi grazie alla collaborazione con Pinbike abbiamo un dispositivo che conta i numeri di chilometri percorsi ed è anche in grado di calcolare, se non sbaglio, le emissioni risparmiate di CO2 e ai tre comuni più virtuosi a fine progetto regaleremo una Cargo Bike. Quindi insomma questi sono un po' incentivi per portare i comuni a spingere il progetto, però in realtà è davvero importante per noi e per la comunità, perché avere questo tipo di progetti potrebbe permettere di avere una cartellonistica dedicata, potrebbe portare le istituzioni a fare magari piste ciclabili dove mancano e quindi a rendere gli spazi più accessibili, non solo per i bambini ma per la comunità intera. Quindi se c'è qualcuno che ci può dare una mano, ci contatti. Poi nel servizio abbiamo parlato anche di strade scolastiche, diciamo proprio a misura di bambino, strade nei pressi delle scuole che sono esclusivamente a pannaggio dei piccoli, quindi in cui si possano riappropriare del loro spazio. Credo che in un momento come questo, in cui c'è stato l'ennesimo incidente che ha coinvolto un asilo e una macchina parcheggiata a pochi metri da questo asilo, che ha causato la morte di un bambino, credo che sia importante tornare a parlare di questa tematica. Eppure ci sono dei pareri opposti. Ci sono scuole in cui si cerca di chiudere la strada davanti alla scuola all'utilizzo delle auto, almeno per quanto riguarda l'orario di entrata e uscita dei bambini, eppure questo è un risultato che non si riesce ad ottenere. Per quale motivo? A Torino ne hanno fatte diverse di no carerias, penso si chiamino, una cosa del genere. Proprio davanti alle scuole o alle chiese, per evitare che le macchine o, come dice lei, nei momenti di entrata e uscita da scuola, o proprio sempre, è impedito l'accesso alle macchine. Però è molto difficile, perché io per esempio abito in zona San Salvario, Torino, e il parcheggio, come ben sappiamo, è sempre un delirio trovarlo. È difficile perché alle persone l'idea di parcheggiare un po' più lontano e andare a casa a piedi o con un mezzo, magari a fine giornata, dopo 8 ore di lavoro, ancora è una cosa che fanno fatica ad accettare. Oppure banalmente spostarsi con i mezzi a volte sembra che sia una cosa molto più complicata, molto più lunga, quando in realtà io per esempio ho venduto la mia auto due sabati fa, ma perché non la usavo. Lo spostamento in città, io parlo di spostamenti in città ovviamente, senza automobile, con i mezzi pubblici sono fattibilissimi, ma soprattutto con la bicicletta, io ci impiego meno della metà del tempo, sia con la bicicletta che con il monopattino, perché ho anche quello, a spostarmi in città che con la macchina. Con la macchina si rimane incastrati nel traffico, però la macchina è comunque sempre sinonimo di comodità per tantissime persone, perché sei seduto, al coperto, se fa caldo accende il condizionatore, se fa freddo accende il riscaldamento, la bicicletta invece è più impegnativa, perché se piove devi avere l'attrezzatura giusta, però, ma volete mettere, anche solo il godesti la città in bicicletta rispetto a chi è con la macchina, non c'è proprio paragone. Ci sono iniziative in cantiere per quanto riguarda Grinto, ovviamente quella di Bike to School non è la prima, non è neanche l'ultima, credo, progettualità che vi riguarda. Sì, abbiamo altri progetti all'attivo, non li nominerò tutti, mi perdonerete, però al momento stiamo facendo dei progetti di educazione ambientale con CDU, il consorzio dei rifiuti della zona ovest, e a breve tornerà un nostro cavallo di battaglia, che è Plastic Frimo Vida, che è un progetto finalizzato ad eliminare i bicchieri di plastica a use e getta e sostituirli con dei bicchieri riutilizzabili e lavabili da gestire con il vuoto a rendere. E torneremo a Giaveno, pare, con questo progetto, che anche questo, sperimentato nel 2019, poi interrotto dalla pandemia, pare che quest'estate torneremo a sperimentarlo sempre in un comune della zona ovest, e tra l'altro evidentemente ci amano nella zona ovest, non lo so. Oppure c'è una maggiore sensibilità verso questo tipo di tematica. Speriamo magari di poterne parlare, perché credo che sia anche una bella iniziativa poter sempre sensibilizzare i giovani, quindi le nuove generazioni, che sicuramente possono fare la differenza in questo tipo di approccio. Ebbene, io direi che siamo arrivati alla conclusione di questo spazio informativo. Ringrazio davvero Davide Miceli, presidente dell'Associazione Grinto Circolo Lega Ambiente. Grazie per averci aperto anche le porte a questa iniziativa, così bella e particolare. Speriamo che possa prendere piede un po' in tutto il Piemonte. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, come sempre, per il nostro approfondimento. Arrivederci. Grazie a tutti.